Avremo due passaggi dove avremo la battaglia di prima di 9 e di 8 e poi a partire da 1907 verrà eliminato la sua battaglia al volo di passaggio per garantire la volata a 5 concorrenti della squadra. Il prossimo per l'arco di 11 è una battaglia assolutamente lunga se vuoi trascinare la prima nuova del traguardo è un passaggio a voi, è una battaglia lunga Diva bene, diva bene, bella volta! Dai dai, sia! Uno unico della confusione Il prossimo per l'arco di 15 enti il prossimo per l'arco di liberare la battaglia e la fiducia del comporrenti della mia madre avrà una premia compia eliminazione questo si ripeterà la battaglia e a partire del 1 settembre segno viene eliminazione della sua battaglia che fa in grado di 10enne il prossimo per l'arco di 15 aiutti della squadra e la fiducia del Giacomia e la fiducia del Faaasri e la fiducia del Sasse e la fiducia del Faaasri e la fiducia del Faaasri e la fiducia del Faaasri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.